ciao barbie family bentornati in un nuovo video svuota spesa siamo stati da action che novità tigota e carrefour allora partiamo da il carrefour perché c'è le cose fuori dal sacchetto che non avevo messo nel sacchetto c'è alcune cose per poi proseguire partiamo subito ho visto carine queste cose hai mica una forbice la fascia di barbie diamo la nostra simona un euro al carrefour un euro e 20 una roba del genere 30 non ho lo scontrino ragazzi questo non ho lo scontrino e comunque non costava molto guardate che bella la scritta barbie loro barbie e la sua amica molto bella elasticizzata wow poi sempre al carrefour un altro accessorio l'elastico di barbie seta bello molto bello colorosa con tutte le scritte di bui poi il pettinino di barbie di barbie ma è per noi ecco non è per barbie molto bello tutto rosa con le stelline con scritto mattel molto molto bello sullo stesso prezzo dopo a 5 euro erano in offerta ho preso i bicchieri i bicchieri per natale trasparenti l'alberello e poi c'è la scritta mary christmas in rosso sono sei molto molto bello useremo al giorno di natale poi c'è anche le macchinine che avevo preso all'altro carrefour in questi giorni è carrefour sempre carrefour dimmi dammi allora c'è la qua è il non so pronunciarla questa cosa è skin co coee ningin seng jesco vabbè non si non so come si pronuncia viola scusate della hot wheels ma stiamo in casa mattel 24 7 Jaguar BMW Toyota Ok, Carrefour è andato Stamattina siamo stati a Tigotà Visto che il sacchettino è molto molto piccolino Iniziamo da questo Allora Tigotà ho speso 18 euro Allora ho preso Questi due Taglierini piccolini per Natale Magari metti un po' di formaggio Le fettine di salame Giusto qualcosa Pupazzo di neve Pupazzo di neve con le stelline Xmas time E qua C'è la slitta Con scritto Mary Mary in piccolino E Christmas con le renne La neve Questi Vastoio bambù 2 ore 48 L'uno Poi Andiamo Abbiamo preso Due mascara Delle Essence Questo Princess Volume mascara E questo Fals Leish Mascara Extreme volume E cure Allora Ne stavo prendendo un altro Ma siccome che ho visto che questi ce ne erano meno Ho pensato Questo era l'ultimo eh E quello era Pensato Se ce ne sono così pochi rispetto agli altri vuol dire che funzioni Ne vanno Vabbè Allora Val False Questo qua è costato 3 euro e 59 E questo 4 euro e 19 Dopo Due matite per gli occhi Ok 2 euro e 75 Nere Perché Io voglio matite che scrivono In attesa che la nonna me la regala Nonna Lucia Quando andiamo Questi sono quelli Resi da Ticotà Totale 18 euro Andiamo Aspettiamo Simone che finisce di chattare con Luca C'è anche nel video chattare con Luca Ma è incredibile ragazzi Allora Vi ho messo un po' in suro il telefono Perché Il gambetto sta andando alle parti foto Tu dai tira su E lo scontrino Scontrino Perché siamo andati in due giorni No tre giorni differenti da 2 giorni Primo scontrino Primo sacchetto 77 euro e 15 centesimi Ecco Vabbè Iniziamo a far vedere queste qui Così almeno dopo non ci pensiamo Allora Le macchinine Eh ma sono state prese in giorni diversi Giorni diversi Vabbè Fa niente Le hai messi tutti insieme Adesso vai a vedere Iniziamo che Ci sono due golf Della Non della hotwits Ma di una serie che non è mai arrivata in Italia E quindi solo da action Due golf Sempre della mattella Sempre della mattella Due golf Viola Poi Eh vabbè Non trovo il prezzo Le borsche E McLaren E La Tesla Un euro e 29 l'uno Sempre Mattel eh Sono nuove uscite Lei piacciono le macchine Oltre che le Barbie Mi stare abbandonando Non gli piaceranno più le Barbie No Faccio vedere intanto questo Vasellina Vabbè Comunque la vaselina è ottimissima Veramente se andate da action e la trovate Prendetela perché vi lascio le Barbie Allora la camera la posso mettere Le Labbra morbidissime Vada Fiocco Come Fiocchi Ciao Dov'è Prodotto Prodotto Due euro e 99 E' il prodotto per macchie Per le unghie, le lime Le lime dove sono? Ce ne sono un sacco, 30 pezzi Quindi Buono Altra luce Ah sì Ah le luci queste Sono ricaricabili eh Cioè tu la ricarichi E poi l'accendi E funziona Senza il filo Ottimo E l'altra volta non l'avevo detto Il quadretto 99 centesimi Per le foto Perché devo cambiare il mio Per i bambini Ossicine Ossicine Come sempre E questo? Questa qua è per Natale Simona E' una cosa però Lei ha visto la scelta Prodotto Amorbidente Finalmente Le noir Altri ossi Allora Niente Le ossa Vabbè 1 euro e 99 No Ma perché io non le trovo? Cioè Pink spuff detergente Ok Ah Fiocco glitter 1 euro e 29 l'1 Ok Madonna L'ammorbidente L'ammorbidente Grosso 56 lavaggi 1 litro e 4 L'avevo trovato 3 euro e 78 E la profumazione Vediamo a sentire rosa Salah Wow Diretto Ma mi fa bigliare sto profumo Vada Pile 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 perché le pile vanno sempre ottime Sono della Varta Sono 16 E andiamo a vedere quanto costano Ah Le lime 1 euro e 29 E se è buona Sono 30 pezzi grossi Si Ok 3 euro e 99 Guardate quante ce ne sono però Vada Vani schiuma della Playboy? L'avevo letto questo Sensual vanilla L'avevo letto Vada 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 Playboy 1 euro e 99 Fammi sentire Vada Cavolo che buono E' mio No E' mio questo Guarda che piccolino Vabbè ma un piccinino Piccinino Ma mio Allora Allora 1 euro e 79 Sono i bagnoschiuma della Kellogg's Allora Ne ho presi Tutti quelli che c'erano di colorazioni Questo è un regalo Questo è un regalo Ma tanto papà non li guarda Quindi Regalo per papà Kellogg's Aspetta Aspetta Si vede Che questo è questo? Capisco Adesso ti Allora Shower gel Poi c'è questo eh Coco pops Coco pops deve essere per quanto è buono Questo è in Non lo so Questo qua è un frosties Non lo so Non ha odore Non ha profumo Non lo sento Quello Guarda è Ma hai fatto uscire tutto Si Qualche profumo c'è Poi Pop stars shower gel Sempre nella stessa casa Ma roba Mi sei una Piffa Lecca Non mi piace Non mi piace Non mi piace Pop stars Non mi piace l'odore Non mi piace l'odore Sembra di colla Non mi piace Ma cos'è il vino il? No no non mi piace Comunque c'è un'altra luce qua Quante matite? Le No questo qua E Altre? E Dio Se E E una matita E Questo qui? Aspetta un attimo Ma perché corri così? No ma per lui due Perché sei lenta Stavo cercare Vuoi cercare tu? Non le trovo Oh Questa è la matita con La matita No? Che Fai così Ma mi sa che più matita Sembra eyeliner Comunque Ho sbagliato E Poi c'è Cosa? Per Sfumare Ok Ne ho presi due Questo qua? Questo è sempre Hanno detto che Questi di questa marca The Pink Stuff Sono ottimi Ho preso il barattolino Con la crema Ed è ottimo Veramente Lucida tutto Andiamo a sentire questo l'odore Adesso ho tutti gli odori nel naso E' buono E' buono? Vabbè è certo Buono però Ok Poi finalmente Poi Poi E' questo qua E' costato 3,79 euro E' buono E' buono E' buono E' buono E' buono Ma c'è il telecomando dentro? No Ok Questo è Ok Sembra bello stabile Bello E' buono E' buono Ma questo è il telecomando Prodotti Per le sopracciglia Ah si In crema Visto che non l'avevamo ancora provato Eh Ciglia kit 1,69 euro Questo non so che sia Siero per capelli Siero per capelli Siero per capelli nutriente con tecnologia Plex Professional Ha capelli più morbidi E sani al tatto Prodotto per capelli Proviamolo Ciglia finte 99 centesimi Questo qua Boh Poi Body cream Ma chi l'ha presa sta roba? Coco nude No no Confetti cream Confetti cream Io questo comunque Confetti cream Beh Ma l'hai pagato tu? No Mi ho pagato io Mi ho pagato io Non lo trovo Non lo trovo Vabbè fammi andare Non lo trovo No È chiuso Ah il siero 1,99 euro Vediamo Max More Max e More Ci sono i puntini dentro Eh sì, questi puntini qua Max e More No, body cream No No Isaple i bocci e doccia 1,99 Ah, confetti e lozione Corpo, 99 centesimi Poi? Ti lamenti, l'hai preso Non ho fatto io Mamma mia Body scrub L'avevo trovato Maledetto 2,22 euro A me non me ne ha neanche Buono Buona profumazione Cocco E questo è lo scrub Crub prima di farsi la doccia E poi dopo la doccia Si usa la crema Dai Poi Poi è finisciuto questo Mettili allo scontrino Prima che Dopo magari Vediamo Allora Popcorn No, prima lo scontrino Grazie Vabbè Popcorn Questo sacchetto abbiamo speso 25 euro Popcorn Ragazzi Popcorn Costa 1,17 euro l'uno Cioè Al caramello salato Non si trovano Maschere per le mani Maschere per le mani 99 centesimi era Sì 99 centesimi Ah perché le matite degli occhi ovviamente sono qua Matite Maschera Max Non lo so Ah sì 99 centesimi Ma non è che funzionano molto Poi c'è la matita delle sopracciglia Sì 89 centesimi Un altro Coco Hops Kellogg's Sì Che mi ero Vedi che ho aggiusto il Il colorazione Nero Non c'era Dall'altra parte Dall'altro action Non c'era questo Questo colore Ho preso gli altri tre E lì c'era un colore in più E che cavolo Faccio Altre ciglia finte C'è una lessa e guarda Vabbè Altre ciglia Un melone sembra Voi Sanno Un pennello Un pennello 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 Ah sì Un euro e 29 Ma questa scusa non ce l'ha già Sì Ce l'ha nell'altro È la cipria Ce l'ha Questo è il melone E l'avocado Molto buona Molto profumata Anche io la volevo la cipria Vabbè poi Un euro e 99 Ciao Ciao Poi Aspetta Non me ne usarla Ma non Non c'era il terzo Fuora Aspetta Non c'è Un reparto di succo Succo e parrucco Non c'è Tutto il punch punch Ce l'ho Ma ce l'ho No nel senso Dentro Non Ah non Non c'è capire Non c'è C'è Non 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 c'è Ah ah si vabbè fissaggio del trucco fissaggio del trucco fissaggio del trucco fissaggio del trucco dov'è fissante 1 euro e 69 2 euro e 49 questo lo sono sicura perché le ho chiesto perché piaceva c'era anche là erano gli ultimi due alberello e c'era il biscottino e per oggi e c'era questo il sapone delle mani tema natelizio per 2 euro e 49 oggi abbiamo preso 12 euro ma sono comprese le macchinine anche perché due sono per Luca e qua sono questi cose altri legali per Luca questi sono i cracker che andiamo subito all'assaggio altri legali per Luca li usiamo sono tipo i criti no no grazie e poi quattro profumini di chupa chups è finito 1 euro e 49 adesso andremo a aprire allora io voglio red no allora tu faccio il mango ciliegia cherry lo voglio il viola strawberry e crema e fragola e crema lo voglio io viola lo voglio io viola grape e uva ho già preso io il viola e viola e rosa allora Ale li sto aprendo tutti per sentirli e vedete qua tutto l'asso spedore nida allora non ci sentono anche se non li ha te lo sai mamma questi sono i pechettini a inserire ma perché non sende la dove mi fa scusa ma non l'hai giocato così e no ma no mi ha collato sotto e ce la colla ecco qua ma ragazzi già ti senti che sono l'apre questo è favore strago e crema è favore ma che non so non lo apriamo subito perché visto che ti senti già favore ma mamma mi ti senti già mamma fami sentire quello questo questo è buono ah beh si no adesso oi andiamo con il mango mango fio sì questa cosa andiamo mamma mi ha fatto si che si va così sono così buoni ragazzi correte a prenderli perché è veramente che colore buono non c'è questo senti non c'è bisogno che fai così però fino adesso ho molto il progettivo su quello ma fino adesso vince lui vince Sunberry e molto più magari poi quando una volta perditi ti lascio andare nell'ambiente è anche arrestante però per il momento questo è più forte diciamo è un po' più deciso che ho le colorazioni e la razza è un po' più la mente è meglio distingere un po' che mi è pare della nostra seduccia tanto voglio pire con voi un po' tanto sono guali perché non sono guali che cosa fanicello ma è un tipo per favore qua è quello delle che non no ma anche no praticamente questo fai così muoviti che sta finendo il tempo apri il bellissimo cosino qua fai così ok disegni disegno e poi con quelle le pettini esatto bravo perfetto molto bello e questo questo c'è dentro il colore ok ma io penso che sia più buono quello lo apro tutto stessa cosa di questo solo che questo c'è il è in crema è in crema così crema c'è una polvere c'è pure un micro specchietto così è piccolo lo specchietto fai così come colora e poi lo si pettina come colora uno è del cherry cherry tutto è così e la madonna che bello eccoci qua rieccoci scusate ho cancellato un po' di roba comunque no così così e devi che mi sono bene e poi e poi di dentro c'è chiettino e anche i galti bene 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 comunque questo è molto valido se avete action se avete action nelle risfinanze molto 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 valido questo prodotto sì anche questi prodotti dove sono questi qua sono molto sì ottimi questi qua i diffusori profumatori buoni questi qua li proveremo e se in qualche altro svuoto spesa li ritroverete perché sono buoni se non li ricompriamo più perché fanno cacché l'altra cosa che vi consiglio di prendere vivamente molto vivamente vabbè è questa qua 1,99 euro è da dio vabbè se voi siete amanti dei popcorn al caravello salato li trovate e quindi non ve li fate scappare i quadretti i quadretti sì le matite non ve le consiglio perché sì sono poco sono tre però non è che però se se non si ha se non si ha niente in casa si usano però se potete prendete altro questo qua che vi ho fatto vedere è molto valida sembra eh vedete dove hai messo la forbice? guarda guarda come scrive forte dove è la forbice? qua e poi con questo sfumare vabbè Valentina hai rotto tutto cioè con questo potete sfumare molto molto bello vabbè le Barbie come sempre se riuscire a trovare qualcosa molto bello qualcosa di non uguale che si trovava in volta vediamo mi fa anche fatichina venire via e le macchinine le macchinine se siete amanti le macchinine poi dovremo provare la maschera delle mani non lo so non ve lo so dire non le abbiamo mai prese è la prima volta che le prendiamo quindi boh questo qua Alessia l'avevi preso tu come ti sembra questo? è molto buono mousse detergente con acqua con acqua e cetrioli rimuove delicatamente ah rimuove il trucco come vi avevo detto adesso Alessia che l'ha provato in un'altra era rosa il suo ma uguale marca ha detto che è buonissimo quindi ve lo consiglio vabbè gli articoli natalizi che ve lo dico a fare c'è un brillantino unico le lime molto valide al prezzo accettalo molto valide le lime questa qua volevo aprire vediamo un po' che non ve l'ho fatta vedere è la matita per le soprasciglia tanto vabbè apriamole non daremo i trucchi questa matita è compresa anche di pennellino ok di qua c'è la matita qua c'è il temperino pennellino e qua c'è lo scovolino dall'altra parte per voi fate così sulla ciglia così no e poi con la davanti com'è Simo? Simo? è meglio quella lì cremosa è meglio questa questa magari magari sai aspetta se te magari vi raffichate in polso o un qualcosa vabbè però se potete questa è la meglio questa è meglio questi qua comunque si anche speciali per il bagno c'è la crema c'è il vichui io ho il barattolino con la crema dentro che faccio le pentole diventano lucide faccio il piano cottura diventa specchio è molto bello questo qua per i pavimenti proveremo proveremo e basta il gambetto si perché con quei prezzi se avete cannellini bambini bellini 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 per farli stare buoni e buon basta anche questo molto buono la cipra io non la uso perché non è che metto tanto fondotinta quindi non mi viene da usare questo lo proverò senza identica cosa che se un per questi se in un prossimo suota spesa lo troverete vuol dire che è buono ok idem questo vabbè il fissante penso che non se lo vado bene perché base di trucco a parte le matite nere che non sono un gran che però va bene dai in differenza di altre ci sta basta bene finito di mettere a posto le macchinine tu e poi c'è tanto action in una maniera pazzesca il pennellino vediamo il pennellino non l'abbiamo è di Alessia bello morbido scusate bello morbido bene vieni a salutare andiamo anche a sistemare il tutto adesso quello che va giù quello che va su perché poi bisogna allestire la cameretta di Babonatò quindi l'abbiamo messa già qua così poi vi faremo vedere cosa abbiamo messo bene amici detto questo con questo video è tutto un po' lunghino non lo sappiamo ma era tantina la roba non era pochina poi a cercare i prezzi nel cosa magari in fase di editaggio vedo 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 se riesco a velocizzare qualcosa o tagliare bene se no vi lascio tutto e vi lascio a te e ciao da addormenti ciao ragazzi facciamo darina nanna certo ciao ragazzi scusatemi scusatemi ma questo gambetto è allungabile e qua dentro c'era il telecomando da associare con bluetooth si con bluetooth si inserisce qua e poi si si sfila e io posso stoppare e avviare registrazioni o foto semplicemente dal telecomandino figata assurda è vero guardato dopo guardato sulla sulla scatola e questi due si chiudono che figata assoluta il gambetto è così è molto alto e dovrebbe anche piegarsi perché si per il bastone per selfie ma noi bastone selfie non ce ne frega niente perché non ci facciamo le foto così a così ma semplicemente serve per noi i video molto molto bello molto utile e wow col telecomando incorporato penso proprio bisogna associarlo con bluetooth penso proprio che comunque quando andrò da action me ne prenderò uno di scorta perché dopo un po' questi si smollano tutti vedete questo qua cioè si è smollato tutto questo quindi si smollano insomma mannaggia bene veramente adesso concludiamo ciao sono contentissima del mio gambettino nuovo ragazzi scusatemi scusatemi ma questo gambetto è allungabile e qua dentro c'era il telecomando da associare con bluetooth si con bluetooth si inserisce qua e poi si si sfila e io posso stoppare e avviare registrazioni o foto semplicemente dal telecomandino figata assurda è vero guardato dopo guardato sulla sulla scatola e questi due si chiudono che figata assoluta il il gambetto è così è molto alto e dovrebbe anche piegarsi perché si per il bastone per selfie ma noi bastone selfie non ce ne frega niente perché non ci facciamo le foto così a così ma semplicemente serve per noi i video molto molto bello molto utile e wow col telecomando incorporato penso proprio bisogna associarlo con bluetooth penso proprio che comunque quando andrò da action me ne prenderò uno di scorta perché dopo un po' questi si smollano tutti perché vedete questo qua cioè si è smollato tutto questo quindi si smollano insomma mannaggia bene veramente adesso concludiamo ciao sono contentissima del mio gambettino nuovo ragazzi scusatemi scusatemi ma questo gambetto è allungabile e qua dentro c'era il telecomando da associare con bluetooth si con bluetooth si inserisce qua e poi si si sfila e io posso stoppare e avviare registrazioni o foto semplicemente dal telecomandino figata assurda è vero guardato dopo guardato sulla sulla scatola e questi due si chiudono che figata assoluta il gambetto è così è molto alto e dovrebbe anche piegarsi perché per il bastone per selfie ma noi bastone selfie non ce ne frega niente perché non ci facciamo le foto così a così ma semplicemente serve per noi i video molto molto bello molto utile e wow col telecomando incorporato penso proprio bisogna associarlo con bluetooth penso proprio che comunque quando andrò da action me ne prenderò uno di scorta perché dopo un po' questi si smollano tutti perché vedete questo qua cioè si è smollato tutto questo quindi si smollano insomma mannaggia bene veramente adesso concludiamo ciao sono contentissima del mio gambettino nuovo ragazzi scusatemi scusatemi ma questo gambetto è allungabile e qua dentro c'era il telecomando da associare con bluetooth si con bluetooth si inserisce qua e poi si si sfila e io posso stoppare e avviare registrazioni o foto semplicemente dal telecomandino figata assurda è vero guardato dopo guardato sulla sulla scatola e questi due si chiudono che figata assoluta il gambetto è così è molto alto e dovrebbe anche piegarsi perché per il bastone per selfie ma noi bastone selfie non ce ne frega niente perché non ci facciamo le foto così a così ma semplicemente serve per noi i video molto molto bello molto utile e wow col telecomando incorporato penso proprio bisogna associarlo con bluetooth penso proprio che comunque quando andrò da action me ne prenderò uno di scorta perché dopo un po' questi si smollano tutti perché vedete questo qua cioè si è smollato tutto questo quindi si smollano insomma mannaggia bene veramente adesso concludiamo ciao sono contentissima del mio camminchino nuovo Grazie per la visione Grazie per la visione